buongiorno a tutti allora vi ho parlato delle partite che si sono giocate ieri vi ho parlato della situazione degli ottavi di finale con bel tabellone e con il fatto che il belgio andando a vincere con l'inghilterra si è andato a impelagare praticamente a inserire nella parte alta del tabellone in cui ci sono tra virgolette le squadre più toste diciamo che ci sono cinque squadre toste e tre due o tre così così mentre invece nella parte bassa ci sono tre squadre di media alta spagna inghilterra e appunto ecco e non mi viene in mente fa niente spagna inghilterra croazia e altre cinque che invece sono così sono così così per dire così così ecco però diciamo che poteva perdere finire nella parte bassa e avere un'autostrada tra virgolette perché le partite vanno sempre giocate però comunque aveva una stradina preferenziale sempre tra virgolette per arrivare almeno in semifinale comunque ormai quello che è fatto è fatto le spiegazioni ve le ho date vediamo un po' di dichiarazioni dal mondiale e poi anche a qualche notizio alla di calcio mercato ma dopo farò un video successivo a questo in cui mi inoltrerò diciamo sulle questioni dei nuovi arrivi delle nuove questioni di mercato e tutto quanto però partiamo con la germania le dichiarazioni di che dirà perché è uscita è uscita con la corea dopo che ci hanno preso per i fondelli vabbè germania che dirà torniamo seri dichiarazioni di che dirà gli ultimi dieci anni sensazionali per noi ora è durissima non è facile con molti giovani quindi anche loro sono della stessa nostra situazione se non peggio perché devono ripartire di nuovo da zero con un sacco di giovani di bella speranza che però saranno bravi come i precedenti è tutto da vedere proseguiamo ancora con le dichiarazioni tedesche quelle dell'allenatore che temo che dopo questa disfatta dovrà dire ciao ciao alla nazionale le sue dichiarazioni delusione enorme dobbiamo accettarla mi prendo responsabilità ma ha perso tutto il calcio tedesco veniamo alle note liete invece il brasile gongolante sempre più dato per favorito a questo mondiale dichiarazioni di paolinio il lancio di cutinio è stato perfetto conta la qualificazione raggiungeremo i nostri traguardi proseguiamo sempre con le dichiarazioni dei brasiliani con tiago silva autore del secondo gol dopo paolinio che ha fatto il primo tiago silva che ha fatto il secondo contro la serbia dichiarazioni di tiago silva ci siamo allenati sulla giocata del gol poi ha aggiunto neymar è un fratello minore migliorerà di partita in partita proseguiamo sempre con il brasile e le dichiarazioni del portiere per ora della roma alison è stata la partita più dura o anche sudato fallo spiritoso delle altre due gare abbiamo avuto più il controllo della palla si però con la svizzera ti sei preso il capitone della rete come direbbe l'amico napoletano di tele lombardia vediamo ancora la dichiarazione di brasiliana e stavolta dopo un romanista sentiamo l'interista cioè miranda sempre che resterà all'inter perché qua c'è un po di picci picci dichiarazioni di miranda vittoria che conferma il nostro rendimento stiamo facendo un buon lavoro il nostro obiettivo è vincere bene brasiliani convinti stampa convinta bookmakers convinti quando c'è troppa convinzione sapete benissimo che poi va sempre a finire in una maniera diametralmente opposta comunque lasciamo da parte per il mondiale per un po per di più oggi non ci sono partite tutto tranquillo si riprende domani e quindi passiamo al calcio mercato milan in arrivo allen alilovic allen alilovic dall'hamburgo il croato ha già svolto le visite mediche allora allen alilovic è un classe 96 centrocampista di sinistra che può fare è anche il trequartista che da gennaio 2017 è in prestito appunto dall'hamburgo alla spalmas ha disputato 38 partite segnando due gol più una di coppa se non ho visto male quindi non mi sembra uno che segna tanto però ne parlano bene vedremo inter ai dettagli ma se non ero siamo già a buon punto è già finita cioè ha già dato la conferma che matteo politano del sassuolo è nerazzurro arriva in prestito con diritto di riscatto andranno odgard è un altro giovane come contropartita per parificare i 7 milioni del diritto di riscatto cioè diritto di riscatto è più alto ma il prestito ha voluto qualcosa subito che sono appunto 7 milioni più il riscatto a 25 qualcosa di simile però come contropartita abbiamo dato odgard e un altro ragazzo giovane della primavera che piacevano particolarmente al sassuolo proseguiamo con il napoli accordo raggiunto per ales meret dell'udinese quindi finalmente è arrivato il portiere operazione da oltre 25 milioni anche carnesis nella trattativa quindi il il napoli si è assicurato il primo e secondo portiere perché sono due buoni portieri beret ne parlano molto bene addirittura ne parlano che sia nonostante la giovanità il nuovo andanovic quindi staremo a vedere campionato inizia tra due mesi vediamo napoli il difensore albiol ha rinnovato il contratto fino al 2021 operazione ufficiale e inoltre verrà tolta la clausola quindi albiol chi lo vuole va lì fa un'offerta se il napoli gli sta bene il giocatore vuole partire partirà juventus si allottana golovin che probabilmente andrà al celsi perché gli agenti hanno già incontrato i dirigenti della squadra inglese quindi probabilmente niente golovin per la juve e dal tonno hanno già speso 40 milioni per per canse no come soffro e quindi giustamente non aveva voglia di fare un'altra volta un'altra asta per portarsi a casa un altro giocatore quindi si guarderanno in giro vedranno qualcun altro tanto il campione del mercato ancora lungo e loro per loro fortuna di soldi ne hanno lazio beriscia il giocatore atteso a roma per trovare l'accordo definitivo arriva dal salisburgo e se tutto va bene cioè se trovano l'accordo a inizio settimana farà le visite mediche veniamo al parma trattativa con l'inter per biabiani inoltre sta trattando treseghe che sarebbe mohammed assan che è un giocatore egiziano classe 94 del casin pasa che una squadra turca esterno d'attacco o anche trequartista è stato anche selezionato da cooper e portato ai agli ultimi mondiali mondiali che si stanno disputando solo che l'egitto è già andato a casa e quindi loro stanno trattando lui che è un appunto un trequartista ora poi stanno trattando peluso terzino sinistro del sassuolo che un classe 84 che tutti conoscono quindi non sto a proseguire e l'attaccante del cesena moncini che è un classe 96 che nello scorso campionato di serie b col cesena ha fatto 27 presenze e otto gol quindi il parma si sta dando da fare per avere una squadra almeno per una salvezza tranquilla poi tutto quello che viene in più è di guadagnato bene abbiamo concluso con questa prima di notiziole sia dal mondiale che per quanto riguarda il calcio mercato adesso mi appresto a fare l'altro video solo ed esclusivamente su sul calcio mercato e basta non ci sono non c'è più il mondiale tanto vi saluto vi ringrazio se tutto va bene questo video per le 4 di oggi le 16 di oggi dovrebbe andare in onda spero anche prima dipende sempre dai cricetivi ciao